La tredicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato l'eccellenza del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta da Yancordile Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Un'altra eccellenza dell'anno innovazione e sostenibilità, produzione integratori alimentari. Il premio va a Delta Pharma. Eccoli qua, tavolo 4. Sono qua vicini ma comunque li invitiamo a percorrere. insomma tutta la nostra passerella e intanto leggiamo la motivazione per essere un punto di riferimento nella produzione di integratori alimentari nel rispetto dei valori etici e morali, per la capacità di operare seguendo un approccio altamente sostenibile e innovativo in tutti gli ambiti ISG. Per gli investimenti e la particolare attenzione al benessere dell'ambiente e dei dipendenti, obiettivi sempre cari alla realtà e in particolare al suo CEO, ovvero l'ingegnere Francesca Aceti. Complimenti a Delta Pharma. Esatto, grazie a Francesca. E' lei. Complimenti davvero. Buona serata. Siamo in compagnia di Maria Francesca Aceti, CEO di Delta Pharma. Benvenuta. Grazie, grazie mille. Ecco, questa sera la vostra realtà è stata premiata come eccellenza dell'anno innovazione e sostenibilità, produzione integratori alimentari. Le chiedo subito un commento per questo riconoscimento. Guardi, eccellenza dell'anno è veramente un'emozione indescrivibile intanto, perché è una cosa bellissima, soprattutto per me, perché forse non sa io come sono entrata in Delta Pharma. Circa 12 anni fa entro in un'azienda che era in fallimento di fatto. Il vecchio amministratore avrebbe dovuto portare i libri in tribunale. Quindi io decido, adesso non vi dico quanti anni ho, ma 28 anni, di provare a salvare questa azienda. E devo dire, è stata un'avventura faticosa, ma una gavetta incredibile, perché ogni giorno avevo le banche, immaginate, mi chiamavano ingegnere, ma qui c'ho gli ufficiali giudiziari, pignoramenti sui conti correnti, causa dei decreti ingiuntivi, mezzo milione di debito in Equitalia, che ho finito tra l'altro di pagare da poco. Quindi il mio obiettivo all'epoca era di salvare l'azienda, cioè far sopravvivere Delta Pharma. Oggi essere premiati come addirittura un'eccellenza è veramente una cosa che all'epoca era inimmaginabile. Quindi insomma, grazie. Ci sono tante motivazioni che hanno portato a questo riconoscimento e tra queste c'è anche l'impegno e anche le iniziative che avete messo in campo in ambito ESG. Ecco, voglio sapere da lei quanto conta questo aspetto nel mercato di riferimento e quali sono le strategie adottate in direzione appunto di sostenibilità. Allora, nel nostro mercato in realtà, specialmente le aziende piccole, molte non sanno neanche che cosa vuol dire ESG. Cioè, diciamo, sono sostenibili perché hanno la scatola in carta riciclata. Quindi insomma, ancora poche realmente attuano una strategia ESG intesa come environment, social e governance. Anche perché non è ancora obbligatorio nel nostro settore. Quindi è anche molto complicato tracciare tutta la filiera. Noi invece io ne ho fatto veramente una strategia di sviluppo. Cioè, il nostro business è veramente improntato, incentrato a sviluppare tutti e tre i temi. Quindi environment, social e governance. E tantissime cose abbiamo fatto proprio nell'ultimo anno. Environment, veramente partiamo dal 2020, in cui attuiamo una strategia chiamata un progetto Delta Pharma Green 2020, in cui abbiamo iniziato a comprare tutta la carta riciclata, il PVC riciclato. Abbiamo attuato tutta una strategia di formazione anche ai dipendenti interni, in cui i rifiuti, la differenziata, le carte, non stampiamo più niente. Adesso abbiamo una nuova sede tutta al risparmio energetico, insomma, con i LED. Poi si è arrivata la certificazione ISO 14001, la certificazione Imprendo Green di Confcommercio. Insomma, tantissime strategie, fino poi al controllo di tutta la filiera. Quello che mi sta più a cuore però dell'ISG è il social, cioè l'azienda, ma almeno la Delta Pharma, è le persone che la compongono. Questo è uno dei miei motti. E voglio avere un impatto positivo realmente sul sociale, quindi inteso come le persone che ci lavorano, il sociale, quindi il tessuto sociale della sede aziendale, e tutte le persone poi che utilizzano i nostri prodotti. Quindi, sociale, partendo dai dipendenti, abbiamo fatto tantissime strategie nel welfare, quindi l'assicurazione sanitaria, i buoni pasto, un sistema premiante, la formazione. Poi noi pensate che abbiamo molti ragazzi in azienda e abbiamo orari flessibili, c'è chi esce alle due, alle tre. Chiudiamo tra l'altro alle quattro e mezza, quindi per chi ha figli proprio li va a prendere a scuola. Tra l'altro io anzi sono diventata mamma otto anni fa e dopo una settimana mi portavo mia figlia in ufficio. So quanto è difficile oggi per una mamma lavorare, lavorare poi specialmente insomma in un ruolo di responsabilità. Quindi io voglio assolutamente agevolare le mamme, quindi possono portare i figli in ufficio, come spesso accade. Domani ho una dipendente che porta il figlio in ufficio, ma è bello anche condividere insomma con le famiglie. Poi l'obiettivo è anche di aprire una piattaforma e dargli appunto le scuole internazionali, cioè dargli opportunità, questo per i nostri dipendenti, collaboratori. Un'altra attività bellissima sul sociale che abbiamo fatto è stata la locazione di un furgone che in collaborazione con un'azienda che si chiama PMG Italia, praticamente è un furgone con una sponda idraulica destinato agli invalidi o alle persone comunque non autosufficienti, gli anziani e porta nel nostro municipio, noi stiamo a Roma nel municipio quindicesimo, queste persone a fare degli esami in ospedale, insomma è un vero e proprio taxi sociale. Tra l'altro noi in azienda una volta al mese facciamo volontariato e questo devo dire che è importante perché anche le persone stesse si gratificano, vedono una realtà diversa, si sentono utili, perché poi insomma è importantissimo questo. Io poi un'altra cosa che dico sempre è che persone felici creano prodotti eccellenti e questo è vero perché io voglio proprio che i nostri dipendenti siano felici, vengano al lavoro volentieri, insomma abbiamo una rete vendita che va dai medici, loro devono essere felici perché rappresentano noi, insomma, quindi il sociale, ecco poi anche tante altre iniziative sull'Unicef, insomma doniamo prodotti, non mi dilungo ma... e poi la governance, ecco la governance perché la mia leadership è improntata sul sistema trust e inspire, cioè contraria che si oppone fermamente a command and control, questo poi sono dei libri americani che io leggo spesso, dico, e questo perché appunto come dicevo prima io cerco di trasmettere degli obiettivi, la nostra cultura aziendale piuttosto che un post su LinkedIn che ho scritto recentemente, siccome stiamo facendo tanti colloqui, ecco degli informatori ancora oggi subiscono il controllo del cofano della macchina, cioè il suo area manager va a controllare il cofano della macchina per vedere se è caldo perché vuol dire che ha girato, una cosa che io dico avvilente, come si può essere così ottusi nel 2023 e fare una cosa del genere? Questo insomma veramente, quella persona, la volta che non è controllata farà sicuramente qualcos'altro, quindi insomma la governance, noi stiamo lavorando anche molto su questo, quindi abbiamo un codice etico, abbiamo iniziato a lavorare sul modello organizzativo 231 per la prevenzione dei reati, per la responsabilità penale dell'impresa, abbiamo ultimamente fatto anche il rating di legalità, poi abbiamo un altro progetto che si chiama progetto trasparenza, in cui tutta la nostra rete vendita è pienamente consapevole del lavoro svolto, cioè su un CRM ha il fatturato sviluppato, i costi, che insomma sono costi di produzione, costi di provvigione se la hanno, costi in congressi, eccetera, quindi loro sanno quanto portano all'azienda, quel quantum noi andiamo a decidere insieme se appunto farne una opzione sociale o magari lo vogliono monetizzare come premio, quindi insomma veramente ecco il sociale è una delle cose che mi sta più a cuore e l'ho trasportato anche sulla governance, per cui insomma queste sono molte, ma anche molte altre ce ne sono, ma non mi voglio si dilungare troppo. Ecco a proposito, le chiedo proprio i progetti per il futuro insomma che avete. Sì, allora progetti ne abbiamo sempre tantissimi, si vive di progetti, senza progetti uno poi alla fine è veramente morto, e abbiamo progetti di tante nuove linee, una per donne, una per bambini, che tra l'altro porterà il nome di mia figlia, però in questo ambito qui in particolar modo io ho due progetti importanti. Uno è diventare una società benefit, cioè io voglio associare all'obiettivo di profitto un obiettivo sociale e non è semplicissimo, c'è proprio una trasformazione dell'oggetto sociale col notaio e bisogna poi perseguire, cioè tutti in azienda devono perseguire anche quell'obiettivo lì, ma sicuramente è una cosa che faremo. E il secondo obiettivo invece è riuscire a proposito di ESG a dare uno score di prodotto, quindi noi diremo quanto è sostenibile ogni singolo prodotto, andando a tracciare la filiera, cioè quella materia prima, quell'azienda che produce quella materia prima, come lavora con i suoi dipendenti, quanto è sostenibile, che impatto ha sull'ambiente, che impatto ha sul sociale, quindi sapremo tutte queste cose del singolo prodotto e non noi, ma insomma noi queste valutazioni le facciamo insieme a CRIF con una piattaforma che si chiama Sinesgy, quindi seguendo dei parametri SDG e GRIRI, perché poi insomma non siamo noi a dirlo che il prodotto è sostenibile, ma con questa collaborazione riusciremo a dare uno score su ogni prodotto, insomma così il nostro consumatore saprà che comprando quel prodotto magari ha aiutato una certa cooperativa, o ha supportato un invalido, o ha mandato dei bambini a scuola. Quindi insomma mi sembra un prodotto, un progetto su cui stiamo lavorando già ed è prossimo. Beh io la ringrazio, mi congratulo per il vostro riconoscimento e grazie ancora per questa intervista. Grazie, grazie mille davvero.